Un saluto da Pippo Vardelli, parliamo di basket, parliamo di Beccari Piacenza, oggi su Radio Sound e lo facciamo con un giocatore di Biancorossi, Kirill Korsonov. Ciao e benvenuto sulle nostre frequenze. Ciao a tutti, sono Kirill, un piacere. Due settimane fa avete vinto molto bene con Fabriano, poi c'è stata la Coppa Italia che ha fermato il campionato, per cui ti chiedo come avete lavorato in questi ultimi giorni e se ne avete approfittato anche per riposare un po' e recuperare energie. Abbiamo riposato mentalmente sicuramente, ma fisicamente siamo andati perché non vogliamo perdere il nostro ritmo, anzi vogliamo solo migliorarla per l'ultima parte di questa stagione. Arrivate da due vittorie molto importanti con Fiorenzuola e con Fabriano, praticamente due scontri diretti. Grazie a queste vittorie avete raggiunto il quarto posto. L'obiettivo adesso è quello di confermarlo da qui alla fine della stagione? Certo, il nostro obiettivo è sicuramente salire in B1 per la prossima stagione. Sono stati due partite importanti che dovevamo vincere, ora penso che tutte le partite che sono rimaste sono importanti e dobbiamo giocarli con concentrazione e massima energia per finire bene questa parte di stagione. Senti, per quanto riguarda la Becker è stata una stagione che è iniziata un po' in sordina, c'erano alcuni dubbi, poi la squadra ha preso via via sempre più ritmo e a gennaio sono arrivati anche due acquisti importanti che hanno innalzato la qualità. Ti chiedo, come valuti la tua stagione in bianco-rosso proprio partendo dall'inizio fino all'ultima giornata? Sicuramente non ero proprio pronto per massimo 100% in inizio stagione, ma piano piano, lavorando ogni giorno, sento che sto crescendo, sto migliorando, ovviamente è andata bene la stagione, però c'è sempre qualcosa da migliorare. Ti faccio l'ultima domanda su quello che sarà il prossimo appuntamento, ovvero Imola. Andrete in trasferta domenica alle ore 18, ti chiedo che insidie può portarvi questa partita? Perché l'Andrea Costa Imola è più sotto di voi in classifica, però è una formazione comunque molto pericolosa. Sicuramente sarà una trasferta bella tosta perché tutte le squadre che hanno giocato a Imola hanno sofferto perché ci mettono le mani addosso, c'è un tifo che fa casino e noi dobbiamo giocare come abbiamo giocato l'ultima due partite con massima energia. Una partita che seguiremo in diretta su Radio Sound domenica a partire dalle ore 18, Andrea Costa Imola contro Becker di Piacenza. Nell'attesa di raccontarvela, un ringraziamento a Chiri Corsonov per essere stato con noi e un grosso in bocca al lupo per domenica e per la parte finale della stagione. Grazie.